Tarelli, tutti i politici hanno promesso di abbassare le tasse, ma nessuno è riuscito a fare una riforma fiscale. Questa volta con un governo di tutti sarà diverso? Secondo me sarà molto difficile fare una riforma importante, tipo quella del 74. Proprio perché non c'è niente di più politico delle tasse. Tasse vuol dire prendere soldi a qualcuno per darle a qualcun altro. Robin Hood, insomma. Le idee del centro-destra e del centro-sinistra sono molto diverse sul tipo di fiscalità che ci deve essere in Italia. Abbiamo un centro-destra che continua a parlare della flat tax, un centro-sinistra che casomai parla di una maggiore progressività di tassare o la ricchezza o i redditi più elevati. Riconciliare queste due posizioni mi sembra molto difficile. Ci sono alcune cose, secondo me, che saranno fatte perché tutti sono d'accordo. Forse quella cosa su cui sono d'accordo tutti è che bisogna evitare, eliminare quel forte aumento dell'aliquota sull'IRPEF dal secondo al terzo scaglione, dal 27 al 38%. Quella è sempre stata strana fin dall'inizio. Costerà un po' di soldi farlo, ma credo che questo sarà fatto. Costerà un po' di soldi farlo, Cottarelli. Ci siamo interrogati, prima che ci raggiungesse, su come si fa a ridurre le tasse al cedio medio. Si fa pagare di più ai più ricchi? Non lo so, la cosa peggiore è una cosa che probabilmente si potrà fare è fare un altro debito, finanziare un taglio delle tassi in deficit. Però davvero, io sono stato il primo a dire che l'anno scorso, quest'anno, bisognava fare un deficit più elevato. L'economia era in crisi, bisognava sostenere la domanda, si fanno le cose in deficit, si aumenta la spesa in deficit. Il debito va su, va bene per il momento, però se ci abituiamo, adesso qualunque soluzione, bisogna aumentare la spesa, lo si fa in deficit. Si tagliano le tasse, lo si fa in deficit, insomma alla fine ci stiamo ipotecando il futuro. Se aumentassero i tassi di interesse ci troviamo in difficoltà. Quindi bisognerà trovare delle fonti di finanziamento, però se si fa una riforma molto parziale e non costa molto, allora si può fare lo stesso. Biden dice, è giusto che anche i ricchi paghino la loro quota nella fiscalità generale. Perché in Italia è così difficile tassare i più ricchi? Per un abitus mentale della politica o perché crea poi un freno anche alla crescita? Ma dipende, ci sono più ricchi che pagano tante tasse e poi ci sono evasori, quindi si può generalizzare. Noi sappiamo che una grande fetta delle entrate è pagata da un numero molto limitato in realtà di contribuenti. Sono 10 milioni di italiani che non pagano proprio tassi, non pagano tassi sul reddito, perché hanno un reddito basso. Ma comunque lì l'esenzione praticamente è completa. Il problema più grosso è quello dell'evasione fiscale. Perché noi ogni anno perdiamo cifre ufficiali 107-108 miliardi, ma in realtà non comprendono tutte le tasse e tutti i contributi. Se le guardiamo tutti probabilmente siamo sui 130 miliardi di tasse evasi. Che vuol dire due volte tanto la spesa per la pubblica istruzione. Sono cifre enormi. Quindi quando si parla di tassi bisogna ricordarsi che il punto di partenza è che tanti non pagano quello che dovrebbero eseguire. E non è che portano via i soldi allo Stato, portano via i soldi a chi le tasse le paga. Perché gli altri devono pagare anche per loro. A proposito di lotta all'evasione, noi negli ultimi due anni abbiamo perseguito l'idea che si potesse contrastare agevolando il ricorso alla moneta elettronica digitale. Non è sembrata una strada efficace. Ci ha colpito molto leggere il direttore dell'Agenzia delle Entrate Ruffini dire Noi i dati ce li avremmo anche ricorrendo a degli strumenti digitali, però non siamo autorizzati a usarli. Per via della legge della privacy. Allora io ho fatto anche un po' di critiche su questo punto e anche sulla questione del mettere sulla app io il certificato vaccinale. Non è che io me la prendo con il garante della privacy, perché lui agisce sulla base di una certa legge. Però io credo sia tempo di andare a rivedere la legge sulla privacy in Italia che è più stretta di quella che esiste a livello di linee e guide europee per andare a vedere se non diventa un impedimento burocratico. Cioè lei ci sta dicendo che come sarebbe stato giusto ripensare la tutela della riservatezza in emergenza sanitaria così sarebbe giusto farlo davanti a un'emergenza tutta italiana che è l'evasione fiscale? Ma in generale, insomma ci sono tante emergenze che possono avvenire. Bisogna vedere se effettivamente questa legge sulla privacy è la migliore. Siamo costantemente sovvegliati nella sostanza dai nostri cellulari, stessi cellulari. Passiamo la giornata a firmare autorizzazioni sulla privacy, eccetera, senza neanche leggere quello che... Cioè diventa una cosa molto formale questa cosa della tutela della privacy. Quindi andiamo a vedere se quella legge può essere resa più snella e più semplificandola. Allora, a proposito di strumenti digitali, qualcuno è emerso anche nel dibattito prima che lei arrivasse, invoca come panacea la tassazione sui giganti del web. Questa è una cosa assolutamente necessaria, è uno scandalo a livello mondiale che questi giganti del web, ma non soltanto, sono le multinazionali in generale, paghino così poco. Ci vuole un accordo internazionale. I singoli paesi possono farlo, anche noi abbiamo fatto la web tax, ma come ho detto quando è stata introdotta, se non si fa questa cosa a livello europeo internazionale, le scappatorie sono troppe. Ora c'è questa posizione, prese dai G7, di avere una tassazione minima del 15%, è un buon passo, si porterà la cosa ai G20, vediamo se viene accettata, ma io dico che almeno in Europa ci deve essere un accordo per avere una tassazione minima, cosa che al momento non esiste.